Tu già sei da tanto amico della squadra di Milano che stai parlando, quest'anno si vediamo in destra, cosa farai? Allora, sarà un po' l'occhio indiscreto del programma e co-condurrò, come ha detto Milano, un po' sul secondo schermo, che è quello dei social network. Ci saranno, diciamo, tutto quello che non andrà in onda sul Rai 1 cercheremo comunque di riportarlo nei social, che ne so, interviste, post esibizione, commenti a caldo, tutto questo fondamentalmente. E ovviamente non andrà in onda solo durante il sabato, ma anche durante tutta la settimana. Mi sarai, insomma, la voce del web. A proposito di web, tu sei un solito di social, tu hai avuto sempre tante esperienze con i social, per esempio, che sarai in domenica. E come pensi che oggi ci svilupperanno? Come va andrà? Ma io penso che se siamo delle persone mature cercheremo di vivere civilmente. Non l'hai incontrata? Sì, è capitato di incontrarla. No, quest'anno no, l'anno scorso che sono stato l'ospitele diverse volte. Fatti se è un mili che avesse invitato come concorrente, avresti partecipato? Non l'ha fatto, quindi non ti posso rispondere. Non lo non penso. No, forse no, adesso. Poi magari l'anno prossimo o fra dieci anni, comunque parlando sarà anche la dieci anni. Ma diciamo che ci saranno delle situazioni che ancora sono in fase di... di che non le possiamo dire. Però dai, diciamo sì. Grazie, vive l'altro.